Storia di una famiglia, Cinziatani e Simona Binni, Cinziatani per i testi, Simona Binni per le illustrazioni. Un romanzo particolare perché è attraverso il fumetto che si dipana questa storia. Esattamente, è bellissimo perché è una storia piena di colpi di scena, piena di misteri, c'è anche un thriller con diversi personaggi che fanno parte di una famiglia allargata e che diventa un film grazie alle bellissime immagini dell'artista. Quindi è stata un'emozione per me scrivere una sceneggiatura, io che ho abituato a scrivere romanzi, e vederla immediatamente realizzata cinematograficamente. E tra l'altro tra i protagonisti c'è anche un gatto che ha un ruolo importante. Il gatto è fondamentale perché praticamente oltre che avere un ruolo nella storia, un ruolo anche particolare per far incontrare dei personaggi, e è un po' in fondo attraverso i suoi occhi che viene vista la storia di questa particolare famiglia. Simona Vini, cosa vuol dire illustrare un romanzo? Perché è un'avventura un po' particolare anche questa. Sì, è un'avventura anche questa ma bellissima perché mi ha dato la possibilità di regalare a Cinzia un immaginario e quindi trasformare la sua storia in qualcosa di vivo attraverso i colori e il segno è comunque per chi disegna una grandissima soddisfazione.